Francesco Alberoni, l'arte di amare, il grande amore erotico che dura. Come facciamo a farlo durare nel tempo, professore? Questo suo ultimo libro, La scienza dell'amore, il grande amore erotico, dura perché rinasce e ogni volta ti incanta e ti stupisce. L'amore, come tutte le cose, non è una cosa che dura sempre. Ha delle onde e tu devi prendere le onde giuste. Ma sapere che poi dopo l'onda c'è un'altra onda e poi c'è un'altra onda. Se quando vai in basso non cominci a urlare come un matto, non prenderei neanche l'altra onda. Qui è indicato dove devi andare. Io qui vorrei che le coppie fossero un po' più felici, stessero bene, se la godessero, in qualunque circostanza e non facessero meno casini, si avvelenassero meno la vita. Capito? Tutto lì. Perché se la coppia funziona... E' un amore erotico che dura. State bene. Facciamo l'amore e non la guerra, si diceva. No, no, questo sia un tempo perché c'era, ma questa è proprio rivolta alla coppia. Io ho studiato l'innamoramento, quindi è l'odio che studia anche come quello stato, in fondo, dello star bene, dello star bene insieme. Guarda che la gente, quando si ama, è un piacere stare insieme. Dopo anni, ci sono delle coppie, le conosco, io conosco delle coppie, che dopo dieci anni che sono innamorati, gli piace andare in giro, a guardare le vetrine, a sedersi in un bar a prendere un caffè, godono perché c'è la persona, sono felici come se fossero in vacanza in Malesia, capito? Questo io voglio che si ottenga. Questa è la bolla, l'isola felice. No, ma è un minimo di difesa rispetto al marasma che ti invade. Ma non lo facciamo anche noi, chiudendo a un certo punto la porta. Quindi si chiude la porta e... No, questa è una biblioteca, qui in questo momento ci sono i libri, quando qua io leggo, c'è un momento in cui occorre usare l'intelligenza, la testa, la riflessione, poi agisci. Ma io sono contento che le donne facciano amore a 70 anni, e abbiano gli orgasmi come quelli di 40 o di 30, perché è così adesso. Io conosco delle donne che fanno amore a 80 anni. Bello! Viva l'amore! Io sono contento, capisce? Non è che... C'è una mentalità puritana che immagina che è arrivata la menopausa, allora basta, è finito. No, oggi molto... Anzi, io sono rimasto molto sorpreso nei miei colloqui, nei miei rapporti, di vedere delle donne, 80-85 anni, che si innamorano, ma si innamorano veramente. Col sentimento. Beh, se avessero il resto, gli danno anche il resto, guarda. Sì. Torniamo alle coppie... Non è un avventoroglio questo. Io so che i giovani fanno schifo queste cose, le condanno, ma ogni età deve giudicare se stessa. Ora, nell'innamoramento la gente che si incontra e si innamora... Io non parlo di quelli che non si innamorano, parlo dei due che si innamorano, si riconoscono, no? Chimicamente. Ma io non so se è chimico, non mi frega niente. Si piacciono. Sono innamorati, no? Lasciamo stare se è chimico, fisico o un'altra cosa. Sono innamorati, hanno un comportamento, vedono il mondo in rosa, hanno l'impressione che tutto il mondo sia più bello, che la gente sia più bella, loro si sentono felici, che il loro amato sia la più bella donna del mondo, che il suo amato sia il più bello del mondo, che anche se ha dei difetti sono in realtà dei predi, se lui è alto gli piace alto, se invece è piccolo gli piace piccolo, se ha il naso lungo gli piace il naso lungo, perché in questo stato, che è uno stato un po' particolare dell'innamoramento, che dura un certo periodo, loro sono sinceri con se stessi, si vogliono conoscere, si parlano, farebbero tutto per l'altro. C'è una grande generosità, tutto il mondo della violenza, in quel momento del suo provuso, è scomparso. Fanno una bolla, la bolla amorosa, in cui sono, per così dire, usciti dal mondo della violenza, della lotta, della sopravfazione. Sono i due innamorati, che sembrano incantati, no? In un mondo beato, né beata. Questo stato, a un certo punto, finisce, però, talvolta finisce questa felicità, dello stare insieme, finisce in un anno, finisce in due anni, dopo di che resta magari, un amore, un volersi bene, una tenerezza, un piacere di fare all'amore, qualche volta invece resta, non so, dei dissapori, e infine, dopo un po' di tempo, i due si staccano, si separano. Ora, la domanda da cui sono partito io, quando ho scritto innamoramento e amore, io dicevo, c'è questa fase, chiamiamola un po' magica, in cui si forma lo stato di innamoramento, la bolla, dopo di che questa passione diventa, si raffredda, diventa però un amore sereno. Ma, in certi casi, si rompe tutto, perché in realtà non erano innamorati, oppure perché c'erano delle differenze fra loro troppo grandi da potersi mettere insieme, ma normalmente va avanti per un certo periodo, passando, come da una temperatura di 100 gradi, a una temperatura di 30 gradi. Il professor Umberto Galimberti gli ha detto che l'innamoramento è veramente una dolce follia che ha la fortuna però di durare poco. Ecco, ma questo lo dicono quasi tutti, quindi mettiamo Galimberti insieme a From e quasi tutti gli altri. Tanto sono solo io quello che dice che non è vero, quindi siamo insieme. Questa situazione, questo stato di preferenza assoluta per l'altro, a un certo punto scompare. Io prima credevo che fosse come anche non dico Galimberti, ma che fosse un fatto fisiologico normale. Invece, poi mi sono domandato ma quello che noi diamo per scontato che a un certo punto non la passione finisca perché subentra la vita quotidiana con i suoi dissapori con la sua noia è una cosa che è così normale o è il prodotto della società? E io ho detto è il prodotto in ampia misura della società. Questa è la risposta. Non è affatto che sia così normale. Ecco, c'è, per carità. se guarda in giro vede un sacco di gente magari si è fidanzata e dopo due anni si è piantata. La crisi dell'innamoramento. No, la crisi della copia in questo che è innamorata avviene e non è soltanto il prodotto un affatto naturale una dolce follia che quando è finito bene no. No, non è così. Io ho l'impressione che questo avviene perché quello stato che si era creato durante la fase dell'innamoramento in cui noi eravamo diventati trasparenti l'uno all'altro cioè ci parlavamo con sincerità eravamo sì, se vuoi un po' sognanti un po' una dolce follia però eravamo anche limpidi eravamo sinceri dicevamo quello che pensavamo comunichavamo i nostri sentimenti veri cioè non avevamo introdotto né la finzione né la menzogna all'interno del nostro rapporto tutto quello che ci passava a parlamento ce lo dicevamo se io trovavo che la mia donna era bella glielo gridavo le facevo le poesie non avevo paura di esagerare nelle cose questo mondo questa bolla incantata ne abbiamo lasciato in questa bolla incantata i due innamorati rilasciano tornare dentro le vecchie abitudini quello che erano prima di innamorarsi e lasciano tornare dentro i comportamenti che hanno fuori dalla bolla rilasciano tornare dentro che cosa per esempio lasciano dentro e si comincia a incrinare per quello che si incrina allora se io per esempio nella bolla io so che la mia amata è libera io non posso darle degli ordini perché lei mi può dire tu vai a quel paese perché io sono donna libera non ti amo più io ho paura che gli innamorati si domandano mi ami mi ami perché non sono sicuri che l'altro lo ama se l'altro lo rassicura quindi io nei riguardi della mia donna di cui sono innamorato nel momento in cui sono innamorato la considero come una persona libera non le do ordine non le faccio in posizioni non le salto addosso fai questo fai quest'altro perché ho paura di perderla cioè rispetto la sua libertà la considero una persona libera ma a un certo punto viceversa nelle relazioni quotidiane incomincio a trattarla come si tratta non dico un amico ma fai questo fai quest'altro ma porco mondo perché ti comporti di lui che stronza che sei l'educazione e il rispetto devono sempre non è è proprio che entra dentro il tipo di sopraffazione di violenza che c'è nel mondo esterno lo stesso vale per altre cose vale per e proprio nel caso quindi a poco poi volta tutte io dico le brutture nel senso il fondo è fondamentalmente alla violenza che noi avevamo allontanato nell'innamoramento la lasciamo entrare per esempio se l'altro è libero io non gli posso imporre delle cose mentre invece c'è molta gente che comincia a considerare il suo amato come un suo possesso tu sei mia questo deve dire come sei mia sei mia non devi fare questo guai se fai questo guai se fai quest'altro queste cose sia ben chiaro queste cose non sono amore queste sono cose che entrano dall'esterno e distruggono l'amore noi diamo per scontato che l'amore sia fatto anche di violenza di pressioni di urli di cretino di asino di somaro no questa è la roba che entra dentro dopo se la lasciamo entrare se non teniamo nella nostra vita di persone un posto un momento quello che io chiamo la bolla in cui noi torniamo a essere noi stessi perfettamente purificati e puri a questo punto la nostra coppia si distrugge quindi in realtà quello stato amoroso che dall'inizio potrebbe continuare può continuare degli anni a condizione però che tu non ci lasci entrare dentro queste cose a condizione perciò che tu continui ad avere il tipo e di qui derivano le indicazioni finali se non puoi pretendere di sapere che cosa lei sente o che cosa vuole domandaglielo e se non te lo dice vuol dire se non c'è sincerità perché non devi dirtelo scusa perché per pudore perché magari non ci si dice tutto ma gli innamorati con un po' di pazienza si dicono sempre le cose se non vuol dirlo per pudore ti dirà non te lo dico per pudore a un certo punto qui del suo quello che non si non si riesce ad accettare questo noi trasferiamo nella situazione amorosa delle cose del mondo esterno quindi se non te lo vuol dire non ti dirà mai stronzo non te lo voglio dire ti dirà ma sai è una cosa che preferisco non dire e poi un'altra volta glielo domanderai in ogni caso se preferisci andare a un film piuttosto che a un altro perché non te lo devi dire sei tu che non devi impolle quel cinema tu sei una scema perché vuoi vedere semplicemente film d'amore tu sei un cretino perché vuoi vedere solo film di guerra che diritto hai di dare la scema o del cretino cioè tu hai diritto di darlo però perdi anche la copia però perdi anche l'innamoramento però perdi l'erotismo è libero è sfrenato solo quando la gente ha una totale fiducia nell'altro solo quando hai una totale fiducia nell'altro che tu sei pronto a fare qualsiasi cosa che ti vengono in mente più di mille non è vero che tu che l'erotismo è soltanto il più intenso è quello con la persona che incontri la prima volta è una grossa balla non la conosci quella persona lì fai una cosa affrettata potresta poi non sai neanche chi ti trovi trovi letto con uno che non sai neanche chi sia mentre questo invece è un continuo incontrato allora io descrivo quello che è reale cioè che alcune copie realmente sperimentano e la maggior parte delle copie invece non fa perché lascia entrare dentro tutto il mondo esterno cioè anziché tenere quest'area purificata quest'area che è loro quest'area erotica in cui l'amore erotico può durare a lungo lasciano che ritorni dentro il mondo della violenza della soffrazione della menzogna prima la menzogna ma è molto più semplice continuare a dirsi la verità è infinitamente più semplice tu quando dici la verità con uno con il tuo amato quello con cui sei tu non hai problemi perché dici sempre la verità non fai nessuna fatica quando incomincia a cacciare balle diventa un problema complicatissimo tenere insieme il sistema di balle quando un uomo conosce una donna e dice io sono qui sono là raccontano ho fatto questo e quest'altro e poi non è vero poi per gli anni successivi deve continuare a mantenere la recita e la recita è una fatica boia scusi professore l'amore erotico che dura lei qui scrive che la fedeltà è assoluta deve essere ma questo io dico perché non è un dovere cioè se due persone io e lei siamo innamorati veramente ci piacciamo veramente siamo contenti mi dice perché io devo andare con un'altra andando con un'altra io cosa faccio andando con un'altra lo spiega bene produco una cosa cosa faccio io quando poi sono con lei porto dentro il problema o come senso di colpa oppure non posso raccontarglielo perché se dico la verità devo mentire e incomincia a rimettere in moto la trappola della non sincerità del non intendersi del mentire del fingere e quindi quello non è più un amore è una recita ciò che lei chiama bolla io in questo momento la vedo come la famosa quella nuvoletta dove gli innamorati vengono raffigurati lei questa nuvoletta lei se la può conservare per dieci anni però lei se la può conservare per dieci anni questa nuvoletta lei e il suo amato quelli all'esterno non c'entrano non devono entrarci non devono neanche saperlo è un problema è un rapporto nostro sono i due amanti che devono avere sapere qual è la loro bolla la loro nuvoletta in cui si rifugiano non devono farci influenzare dagli altri però lo stress lo stile di vita la crisi economica quanto influisce su questo quanto può non entrare in questa bolla difficile è professore realizzare questa cosa verissimo però se uno sa che c'è la bolla e che la deve tenere chiusa tiene fuori il 95% ma se non sa che c'è la bolla e non sa che si deve tenere fuori la gente e se non gli viene neanche in mente lascia entrare tutto entra in casa come una furia che pondo porco schifose poi tu che cosa fai e questo appunto scambia no ma non c'è bisogno fallo con tutti ma non fallo con la persona che ami come non lo faresti col bambino piccolo non fai quelle scene lì col bambino piccolo è un problema di salvare la copia la copia si salva non perché non fa l'amore fate l'amore come volete c'è della gente che perché c'è il figlio alla fine vede inaridiscono tutto alla fine si comportano così come vedono la gente che si comporta alla televisione cacciandosi tipo il grande fratello balle su balle quindi io insisto molto su questo punto un giorno la gente capirà che molti dei problemi che nascono all'interno della copia nascono nel momento in cui tu ti sei innamorato e anziché aver incominciato a comportarti in questo modo cioè a dire la verità hai incominciato a cacciare balle quindi l'innamoramento e la bolla devono incontrarsi e crescere insieme e costruire insieme devono crescere insieme non bisogna avere paura questa bolla deve essere assolutamente difesa deve essere lasciata tutto fuori la gente ha paura la gente si difende si difende dai sentimenti si difende ha paura di ha paura di manifestare l'eros in tutta la sua forza da un lato ma anche ha paura di apparire un sciocco agli occhi di sua moglie di suo marito o del suo amante vuole nascondere le sue debolezze sono debole tanto se l'altro ti ama capisce la tua debolezza ti ama così ama la tua debolezza amami così come sono non bisogna non dico che poi uno non aiuta l'altro a cambiare a migliorare certo ma il fatto che io ti nascondo le mie debolezze fingo di essere forte poi devo sempre fingere di essere forte mi costa una fatica spaventosa fare una vita così questa idea dopo innamoramento non è un lavoro difficile è un lavoro facile cioè io dico distendetevi signori distendetevi lasciate fuori le cose buttatele via non pensateci state quando state fuori state bene è un esercizio difficile no 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 è che tutti sono lì con i nervi tesi per fare delle cose complicate non fanno l'unica cosa che è quella di smollare i nervi e lasciarsi andare all'amore all'eros all'eros va bene non sta bene mi fa malatezza te lo dico veramente sinceramente e l'altro ti dice cioè la maggior parte della fatica la facciamo per tenere in piedi delle scene in cui noi non siamo noi stessi in cui noi siamo secondo le regole che ci viene data dalla società eh sì dice che è solo per questo non solo per questo ma in ampia misura sì devo essere sempre io devo essere sempre in un certo modo devo essere assertivo devo dimostrare che sono forte va bene dimostra che sei forte quando sei fuori insomma sei tornato a casa sei con la tua donna a letto sei con il tuo uomo che stai facendo dell'amore quando vuoi essere assertivo lasciati andare lasciati andare è il campo dell'amore non è il campo non è il campo di un campo di battaglia ma sai che resta ripeto dopo innamoramento amore dopo ti amo adesso insomma la sua attenzione è come conserviamo l'eros nella coppia ma certo perché in fondo dopo di che queste coppie che vanno male alla fine finiscono ad andare dall'avvocato divorzista spengono un sacco di soldi si avvelenano si avvelenano la vita si avvelenano la vita finché è possibile io parlo di gente che era innamorata parlo di gente che era innamorata e certe volte anche una coppia che magari ha un po' di traballamenti io credo che se fosse più sincera avesse più disponibilità capisce guardi che è molto la libertà la sincerità e il parlare sono chiavi lo facesse e invece non gliela do vinta e bravo non gliela dai vinta lui lui gliela dai vinta a te hanno fatto la guerra mondiale per questo motivo hanno fatto una guerra mondiale con 6 milioni di morti per non darla vinta lei non ha idea di quale catastrofe ci sia indietro il non darla vinta io te la do vinta chiuso finito inutile continuare a discutere a un altro mi lo direi ma a te che sei il mio amore te la do vinta va bene così va bene così amiamoci no vuoi fare vuoi mangiare sempre la polenta vai mangia la polenta io non ti critico ti mangi polenta la mattina mezzogiorno e sera sereni e felici io tu mangi tu la polenta io non la mangio mangio un'altra cosa tu non dici niente di quello che mangio io e io non dico niente della tua polenta e così vi sono felici e contenti per lo meno non li stighiamo sulla polenta e quando ci sono invece i problemi quelli grossi esagerati sì ho capito ma i problemi grossi esagerati non è che li risolve orlandosi in faccia e dannosi delle botte sì purtroppo la società è molto conflittuale quindi come diceva lei i modelli li assorbiamo tutti certo se io guardo i modelli che mi dà la fiction televisiva io non sto dicendo che la società mi dà un'educazione emozionale e sessuale è sbagliata e il mio libro è un testo di educazione sì non è i cesaroni o la fiction questo è un libro questo è un libro di carattere educativo io dopo 30 anni dopo innamoramento e moro ho scritto anche il modo in cui qualcosa di quell'innamoramento si può conservare ma non è certo guardando dei film che in fondo ti mostrano non è certamente guardando che so io adesso non mi viene in mente un titolo ma potrei come si chiamava ma sono tutti film in cui in fondo prevale la sessualità aggressiva qual era quel film non mi viene in mente cos'era nove settimane e mezzo nove settimane e mezzo è una situazione di non innamoramento lui non è innamorato e allora non si verifica che loro non possono fare niente a un certo punto lei si sta innamorando ma lui di fatto è un don Giovanni non si innamora e ultimo tango a Parigi rappresenta una relazione omosessuale anche se fatta con eterosessuali rappresenta una relazione omosessuale è un rapporto omosessuale nascosto dietro l'etero sessuale tant'è vero che l'uomo in soltanto seduce un maschio che poi lo uccide non c'è motivo fosse una donna è per questo pensi che io l'ho considerato uno dei film più belli che ho visto nella mia vita una bellissima storia d'amore sarà omosessuali tragica infatti si incontrano nei gabineti si incontrano masturbandosi capisce quindi è un tipico se uno lo vede mette un uomo al posto della donna funziona tutto se mette la donna non funziona niente neanche neanche lo scopare da lì dietro insomma eh ma si parla molto appunto delle coppie omosessuali gay eccetera le dinamiche guardi che quello che dico per la coppia etero vale anche per quella uomo non cambia proprio niente è la relazione la relazione d'amore è certo anche le coppie uomo facciano pur che rispetto infatti ci sono delle coppie coppie omosessuali che durano a lungo magari sono più liberi si considerano si danno più libertà nel campo dell'esclusività della fedeltà ma è un problema loro è sempre il problema della coppia se la coppia decide di fare un'esperienza di scambio di coppie lo decide insieme e lo fa non cambia niente è il tradimento il nascondere che crea il problema l'imbroglio che non sai più di cosa parlare è sempre il non dire è sempre il nascondere è sempre il falso è sempre il prevaricare l'altro quando l'altra sera parlavate della violenza sulla donna ma io la vedo immediatamente la violenza dentro la coppia vedendo i comportamenti ma già a livello del giovanile non ha grazie professore è stato molto gradevole stare con lei crediamo nell'amore nell'eros e facciamoci tanti auguri grazie grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti